Sarà difficilissimo, lo sappiamo, è uno dei gironi più complessi in Italia, però ho anche immensa fiducia. Primo nel paese, nell'amministrazione che ringrazio per tutto il sostegno che ci hanno dato, ma soprattutto permettetemi di dire che ho dei ragazzi speciali, perché in questo mese sono andati oltre ogni più rosa aspettativa. Stasera sono molto felice perché vedo che avete apprezzato quello che abbiamo fatto insieme al sindaco, che ringrazio ancora una volta, insieme all'amministrazione, ad Angela, Augusto, che questa sera non vedo. Questa società, questa categoria, senza di voi, senza il vostro aiuto, non può esistere. E quindi ve lo chiedo oggi qui sul palco, noi siamo qui per farvi felici e per condividere con voi questa cosa, che è bellissimo, il calcio è uno dei giochi più popolari del mondo, ma se non lo si fa insieme, se non lo si condivide, non serve a niente. Quindi noi vi accorgeremo a braccio aperto e aspettiamo che verrete in tanti a darci una mano, che ci sosterrete la domenica. E una cosa ve la prometto qui, oggi è il giorno della presentazione, questa squadra rimarrà qui per sempre. Quindi avete la salute qui.